I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da tazze parti e non da TIC1000, danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori a TIC1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti, che declina ogni irresponsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC1000, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio, il training di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere all'investimento iniziale, assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Questo webinar è presentato da me, Giuseppe Cericola, il country manager Italia di TIC1000 e con me c'è il coach del Training Talent Show Coaching, Marco D'Andrea. Prima di entrare nel vivo del webinar farò una presentazione del broker che rappresento TIC1000, un broker non di l'indesco e con commissione tra le più basse del settore spread a partire da zero. Abbiamo una regolamentazione della FCA di UK con fondi custoditi in conti segregati separati dalla società, assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti, quindi sono benvenuti tutti i tipi di experts, strategie, non ci sono report e grazie alla velocità ultra rapida oltre ai nostri 10 server sparsi per il globo viene garantita la migliore esecuzione e quindi comprese anche gli slippage positivi. Abbiamo una connessione fix-up già con le metatrader collegate ai nostri liquid provider, poi per chi vuole qualcosa, desidera anche dei protocolli speciali, abbiamo anche una connessione, un protocollo fix-up dedicato. Inoltre, ampia gamma di mercati, copriamo quindi il Forex, i CFD sugli indici, tra cui il Fuzzimib, materie prime, metà di prezio e criptovalute. Come strumenti di ausilio al trailer abbiamo AutoChartist, la VPS in sconto, il OneClick Trading e la demo illimitata. Non ci sono costi su prelievi e depositi, abbiamo un programma partner di TIC1000, molto interessante, che mi invito a visitare sul nostro sito. E abbiamo, siamo dei pochi broker comunque in regime dichiarativo, a fornire anche l'assistenza sulla dichiarazione del capital gain, grazie alla collaborazione con il nostro super coach Marco D'Andrea, che è anche un ottimo, un bravissimo commercialista molto preparato sul settore del trading online. Questa è la mappa dei nostri server, quindi tra l'altro devo aggiornare il server su New York perché l'abbiamo spostato in Nord Virginia, quindi poi nei successivi webinar ragionerà la mappa dei server. Questo è un confronto di TIC1000 con altri broker da un sito esterno, MyFxbook, dove le commissioni, dove vengono riportate le commissioni e gli spread, e come potete poi verificare sempre voi stessi anche in tempo reale, noterete come l'offerta spread e commissioni di TIC1000 sia tra le più basse rispetto alla maggior parte dei competitor. Potete provare il tutto su un conto di benvenuto, un conto di prova da 30 dollari, dove non è richiesto un deposito, nessun tipo di deposito, e vi faccio vedere dove andarlo a scaricare perché ho ricevuto diverse richieste. Allora, l'ho preparato prima, quindi da promozioni, conto di prova da 30 dollari, non è richiesto nessun deposito o telefono o altri dati, basta semplicemente un'email, la data di nascita e il pileaser. Mi raccomando, una cosa è di inserire il nome e il cognome reale e anche l'email, perché poi, qualora voleste prelevare i profitti maturati, che ricordo sono fino a un massimo di 100 dollari, comunque trovate tutte le condizioni sul... è scritto tutto dettagliatamente in termini e condizioni, quindi vi pregherei di utilizzare comunque il nome e i cognomi reali, in modo tale che poi si possa comunque procedere con il trasferimento dei profitti sul conto reale, perché se mettete dei nomi fittizi, poi non siete più elegibili per la promozione. Detto questo, vi lascio anche la mia email, che è giuseppechiocciolatiknil.co.uk e possiamo quindi passare alla seconda parte della strategia di... che Marco comunque ci ha già fatto vedere martedì. Marco, se tu mi senti bene, sei pronto, io ti lascerei la parola. Ti seguo con le slide eventualmente poi anche sulla piattaforma. Sì Giuseppe, buonasera a tutti, mi sentite bene? Mi confermi la mia voce, arriva chiara e limpida? Sì, io ti sento bene, sì. Ok, perfetto. Se per te va bene, ripartirei, diciamo, dalla slide, diciamo, dell'impostazione delle regole operative. Quindi, linea generale, dicevamo l'altra volta, puoi schiacciare anche F5 sulla tastiera che andiamo a tutto schermo. Eh, un po', sì, andiamo a se... Ok, perfetto. Fondamentalmente, quindi, dicevamo per quanto riguarda il discorso della strategia, la riassumiamo velocissimamente. Sappiamo che le regole operative sono su un ingresso su pattern che oggi andiamo a svelare. Andremo a confermare l'ingresso con un filtro di uno o più indicatori. e andremo a filtrare ulteriormente, diciamo, l'orario di ingresso e stabileremo un money management. Le regole dell'uscita, ovviamente, saranno anche qui date da un orario. Ci potrebbe essere un filtro di un indicatore e dopodiché imposteremo quantitativamente stop loss e target. Cioè, quindi, li andremo a misurare in maniera più precisa. Queste, bene o male, sono le regole operative che io utilizzo per ogni tipo di algoritmo che genero. Poi, ovviamente, posso sintetizzarle di più e le posso anche approfondire, magari, ulteriormente. Dipende un pochettino dalla strategia, eccetera, eccetera. Quello che comunque dei casi, il messaggio che voglio passare è di non darvi un corso tale che vi uscite, diciamo, con un algoritmo e poi magari quell'algoritmo smette di funzionare o comunque siete legati solo a quell'algoritmo. Io voglio regalarvi quello che è più o meno la chiave rivolta al fine di generare tante strategie al fine quello di, diciamo, come posso dire, nel senso, invitarvi a studiare al meglio i mercati e le serie storiche al fine di regalarvi un metodo di studio per generare algoritmi vincenti che rivolto ai programmatori sicuramente quello che vi posso dire è che gli algoritmi migliori sono quelli scritti con poche ridi di codice cioè, ovvero, pattern molto semplici molto, piuttosto direi anche banali tant'è che spesso e volentieri i miei corsisti perché sono diversi anni bene o male che mi approccio alla formazione dei traders one to one delle volte mi dicono ma che è tutto qua? Cioè, ma veramente questo tipo di tecnica comporta solo questa regola? Sì, perché sono le cose semplici a mio avviso io vedevo sempre tanta gente quell'esperimento l'abbiamo visto con Giuseppe che mettevano dieci indicatori uno sotto l'altro magari uno che era identico all'altro magari veniva cambiato il time frame di riferimento veniva cambiato il moltiplicatore ma alla fine l'effetto era sempre lo stesso andavate sempre in confusione in generale più roba mettete sotto e peggio è in generale specialmente per chi è indiscrezionale per chi posso capire che uno faccia un algoritmo che dice prendiamo tutti quanti gli indicatori di momentum appena uno diverge entriamo a mercato perché magari quello è il momento in cui si potrebbe creare l'inefficienza ci può stare anche una cosa del genere ma fatto a livello diciamo meccanico è un conto ma andarlo a fare a livello visivo è finito di diciamo tutti quanti dentro un'illusione ottica madornale per la quale dopo quello che andate a trattare è una lineetta sul grafico piuttosto che invece tutto un discorso di un grafico finanziario perché ricordate sempre che il grafico che vedete è frutto di formule matematiche è frutto di algoritmi è frutto di calcoli un indice viene calcolato una materia prima viene calcolata un cambio valutario viene basato sugli scambi e su diciamo gli aggregati monetari M1, M2, M3 sono calcoli fondamentalmente non sono linee che si tracciano sul grafico e non si muovono in base a quelle linee quella è una conseguenza e spesso è anche una coincidenza che comunque dei casi per quante volte magari potreste dire a Mattiro Fibonacci e magari che ne so il livello del 50% viene sul livello del 50% spesso e volentieri potrebbe essere sentito è una pura coincidenza che nel momento in cui non funziona se voi comunque dei casi non capite il perché quella cosa non ha funzionato non ve lo spiegate non vi ritrovate fondamentalmente con un cerino male come dice fino all'altro giorno funzionava magari c'era qualcuno che diceva le divergenze e diceva fino all'altro giorno funzionavano oggi non funzionano più sono intervenute le mani forti come si usa dire sono tutte stupidaggini in linea generale perché i grafici non si muovono secondo le mani forti secondo le lineette secondo le cose si muovono con dei calcoli quindi noi dobbiamo cercare di andare a calcolare un po' tutto quello che è il no la nostra struttura cioè vedere un attimino quella struttura a che cosa corrisponde stavo oggi approfondendo diciamo lo prendiamo questo piccolo approfondimento di un fondo che ad oggi si è quotato che è il fondo del professor Savona se alcuni di voi stanno seguendo le vicende politiche il professor Savona sta rischiando tra virgolette di diventare un nostro ministro credo per l'economia il professor Savona ha 82 anni circa non so forse tre o quattro anni fa ha creato un pool di studio qui a Roma in particolare all'università della LUIS e ha creato un gruppo di studiosi che io penso che soprattutto di scienziati che studiavano algoritmica all'interno dei mercati finanziari lui aveva il corso credo alla LUIS di mercati appunto finanziari o comunque di finanza quantitativa alla facoltà di economia della LUIS di Roma ha creato questo laboratorio o meglio il laboratorio già c'era l'ha sfruttato sono arrivate diciamo dei finanziamenti da grossi istituzionali che hanno finanziato l'attività di ricerca è nata una start up ed è poi passata è diventata Euclid che è passata fondamentalmente poi ovviamente come tante realtà sono andate fuori insomma a Londra il professor Savona è stato il primo che ha creato algoritmi con una media di gestione diciamo di rendimento del 20% annuale su blockchain e tutto quanto nasce fondamentalmente da algoritmi genetici quindi di strutture che si autoadattano al mercato hanno un qualcosa di autoadattivo perché replicano un pochettino quelli che sono i principi della fisica e i principi della diciamo chiamiamoli della chimica o quantomeno della diciamo delle si chiamano reti neurali quindi comunque si autodattano al contesto vengono utilizzate per studiare i buchi neri e vengono utilizzate per studiare bene o male il comportamento degli animali che è piuttosto imprevedibile pensate ad esempio un cane cioè che ne sapete un cane come può reagire in un determinato modo c'era ad esempio lo studio di come reagivano i tori al colore rosso poi si è scoperto invece che era il movimento che gli dava fastidio perché i tori non vedono a colori ad esempio studiano queste cose le applicano ai mercati cioè è un qualcosa che uno pensa ma come facciamo finanza e studiamo i tori sì sono correlati perché comunque dei casi in base all'andamento diciamo caotico del contesto vanno a vedere come quel determinato soggetto reagisce e così può reagire tranquillamente una candela di mercato in relazione magari a una news e quindi vengono riportate diciamo queste news che sono queste nozioni che sono nient'altro che genetica alla fine quindi vengo e queste sono scienze però ecco perché si chiama pool di scienziati perché la fisica la genetica hanno dei corollari hanno dei teoremi che sono praticamente scientifici Fibonacci è una serie matematica applicata ai polli cioè venivano utilizzata per misurare i polli cioè non c'è un po' mi è chiaro la situazione questo poi è un discorso che ho anche affrontato con altri relatori ovviamente era per spiegare ben o male l'approccio quantitativo da avere al mercato piuttosto che rispetto a quello grafico veniamo ora appunto a quelle che sono le nostre ego perché ovviamente è un approccio del genere Marco legge le domande riesce a leggere le domande assolutamente no me le devi dire tu perché non ho la chat e perché già ci sono delle domande no 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 qualche critica di Claudio che io non filtro nulla ragazzi quindi quello che voi scrivete in chat io lo dico Claudio ovviamente Marco ha fatto una premessa si può essere d'accordo oppure no adesso passiamo adesso entriamo nel concreto quindi non avere fetta si entra adesso nel concreto perché Marco perché Claudio dice ok tante parole parli parli ma in sostanza adesso vediamo l'impatto non ti preoccupare Claudio intanto Claudio dopo mostreremo sicuramente l'equity line del risultato diciamo del abbiamo già visto lì è solo perché se scrivete comunque delle domande io non è che sono il tipo che filtra e faccio le domande solo che piace che piace comunque al broker o al relatore quindi ascoltiamo tutti noi assolutamente però la premessa era dopo io poi questo per me è stato anche interessante perché questo fondo di Savona non lo conoscevo quindi oggi ho appreso una cosa nuova e quindi grazie Marco per averla per averci all'ambiente ok allora andiamo avanti con il webinar quindi vai continua pure sì no assolutamente quindi dicevamo appunto di come sviluppare le nostre tecniche quindi queste sono le regole operative anche da sviluppare in ottica quantitativa quindi di misurazione quindi andrei appunto per i più critici alla slide dell'equity line che abbiamo già mostrato l'altra volta vi spiego un pochettino velocemente come potete leggere sotto la base sono quasi 500 trade manca diciamo l'aggiornamento degli ultimi mesi che che non ho postato perché comunque dei casi era più mantiene la stessa andamento quindi non cioè trade più trade meno non cambia come potete vedere questa è un equity line di circa cinque anni e mezzo mancano ovviamente l'ultima metà dell'anno che è quella in corso e ovviamente lo aggiornerò a fine anno perché l'equity del conto non la monitoro tutti i giorni perché non essendo operazioni diciamo convulsive quindi che entrano tutti i giorni che entrano comunque dei casi a tutti i momenti ma se facciamo una media sono circa 500 trade su cinque anni che cosa vuol dire che se un anno ha 250 giorni operativi all'incirca questo algoritmo lavora il 20% del tempo quindi non è un come si dice un trading di alta frequenza anzi è abbastanza latente quindi ha diciamo un ingresso più o meno di 1 barra 2 trade a settimana questo perché cosa vuol dire perché il mercato dico sempre non offre mai passi gratis quindi non ti dà sempre la possibilità di entrare o meglio ce l'hai la possibilità di entrare ma non sempre quella giusta quella profittevole tutti diciamo i filtri devono coincidere con quello che può essere fondamentalmente le regole di entrata e ovviamente le regole di uscita in base a questo andiamo a questo punto giustamente perché se no si chiacchiera troppo qui bene o male abbiamo i contatti e andiamo direttamente al sodo come giustamente il nostro amico Claudio sicuramente vuole allora la premessa è ovviamente è che andiamo a lavorare sul cambio sterlina yen per ragioni di serie storica che abbiamo già detto l'altra volta ovvero che è un cambio di natura trans following ecco perché vi dicevo già prima studiate bene le serie storiche in modo tale che possiamo già capire se quel cambio va in maniera direzionale o se questo cambio va in maniera laterale questo è un cambio che prevalentemente è direzionale a un buon 70% del tempo che il breakout funziona Don Chan Channel allora il Don Chan Channel comunque dei casi per chi segue Giovanni Lapidari sicuramente sa già di cosa parliamo chi invece magari non ha avuto il piacere di seguire Giovanni Lapidari che è uno dei trader nostri italiani che è fautore di questo diciamo strumento esistono già anche degli strumenti automatizzati sul Don Chan Channel però ve lo spiego in maniera piuttosto semplice un Don Chan Channel altro non è che un gruppo di candele prese e fatte diciamo a rettangolo vi faccio l'esempio prendiamo che ne so le candele da mezzanotte alle due di notte ad esempio con un grafico 15 minuti spostiamoci sul grafico perché sennò altrimenti non va bene chiaro allora che io tra l'altro questo indicatore non ce l'ho perché guarda come dicevo nel frattempo che cerchi lo spieghiamo velocemente questo indicatore è un indicatore che a mio avviso è inutile completamente inutile perché è veramente talmente semplice talmente passami il termine stupido come indicatore che comunque nei casi nemmeno serve perché comunque come intanto lo spieghiamo a parole poi lo guardiamo insomma prendiamo noi un time frame di riferimento un grafico di qualsiasi cosa diciamo prendiamo le prime otto candele della giornata ad esempio quindi prendiamo da mezzanotte alle otto oppure che ne so dalle otto alle sedici è un numero di candele che noi prendiamo il Don Chan Chan è questo prendiamo poi il massimo e il minimo assoluto di questo intervallo di tempo che noi decidiamo di prendere quindi se noi ad esempio prendiamo lo abbiamo detto prima mettendo il grafico a 15 minuti prendiamo ad esempio le prime otto candele a 15 minuti abbiamo creato il nostro Don Chan Chan che si comporrà dal massimo assoluto di quell'intervallo di candele e dal minimo assoluto avremo quelli che in analisi tecnica si chiamano area di supporto e area di resistenza che sono due linee orizzontali a che cosa ci servono fondamentalmente queste linee allora parlando sempre di natura degli strumenti se noi abbiamo uno strumento che tecnicamente è direzionale perché funzionano i breakout e notiamo delle compressioni laterali che cosa vuol dire che quello strumento sta caricando le batterie perché se uno strumento direzionale in quel momento sta lateralizzando vuol dire che in quel momento quel grafico è in attesa di un qualcosa che gli dia benzina per esplodere questo succede tipicamente nelle materie prime poi lo approfondiremo meglio quando parleremo del petrolio è bestiale come indicatore è talmente semplice è talmente stupido che è bestiale perché semplicemente in base a quel numero di candele in base a quel supporto o quella resistenza che è individuato l'esplosione del breakout riesce comunque a darti un risultato un punto di ingresso ottimale ovviamente è un punto di ingresso poi andremo dopo a specificarlo anche qui sul forex funziona allo stesso modo dobbiamo individuare un tempo in cui dove la compressione potrebbe essere piuttosto evidente dopo di che una volta che abbiamo individuato la compressione se abbiamo appunto detto che è uno strumento che per il 70% è direzionale vuol dire che abbiamo individuato dei punti dove il mercato potrebbe andare a esplodere perché dico potrebbe perché ovviamente andiamo sempre a lavorare con istanti di tempo quindi con percentuali di probabilità a favore o meno ovviamente se abbiamo studiato prima che il 70% del tempo è direzionale abbiamo il 70% delle possibilità che il punto che abbiamo individuato è sicuramente il punto ottimale perché non abbiamo il 100% perché il 30% potrebbe tranquillamente continuare a lateralizzare questo si chiama rapporto diciamo del peso statistico fatto quello che viene chiamato sul mondo grande quindi sull'intera serie storica rispetto al mondo piccolo che è la serie storica del momento in linea generale poi sono tutti i principi della statistica che come avevamo detto nella premessa del fondo quantitativo vi invito ad andare a studiare bene o male ci sono tanti libri da approfondire su questo ok quindi il canale se ho capito bene si prendono 8 candele 8 quello che il numero si prende un numero di candele esatto io in questo esempio vediamo se le ho tracciate correttamente allora partendo da diciamo da mezzanotte dell'orario del broker quindi vado a puntare 8 candele facciamo 1,2,3,4,5,6,7,8 giusto devo prendermi il massimo assoluto che quindi è questa esatto e il minimo assoluto esatto che è questo quindi poi devo aspettare diciamo il breakout di una delle o del minimo o del supporto della resistenza giusto? chiamiamole sì perché sono i termini più diciamo comuni chiamiamoli così non è né un supporto né una resistenza sono semplicemente due linee parallele orizzontali dove il mercato che piace di più ai trader anche se magari gli algoritmi non sono non sono proprio d'accordo però comunque sono livelli di tracciati che comunque fuggono da resistenza e supporto e il time frame lo decidiamo noi esattamente esattamente veniamo quindi al nostro alla nostra slide quindi una volta capito appunto che cos'è un don't check channel ovvero un conteggio di candele di cui andiamo a individuare massimo e minimo per tracciare due linee orizzontali ovviamente sempre per i quantitativi vi dico se non vi piacciono per il vostro algoritmo i minimi e i massimi e volete prendere le aperture e le chiusure estreme va bene lo stesso se comunque trovate che quei parametri sono più ottimali per l'algoritmo liberissimi ovviamente di filtrare ancora meglio diciamo questa tecnica io vi sto dando quello che è l'algoritmo scarno perché come dice anche il nostro campione del mondo di trading una tecnica se funziona deve essere grezza poi si ottimizza ovviamente al fine di migliorarne un po' l'equity eccetera eccetera però noi quello che deve essere già vincente già deve essere diciamo la sua base quindi don't check channel e il nostro don't check channel lo andiamo a individuare su time frame a 15 minuti dalle 8 alle 10 perché dico questo lo dicevamo l'altra volta sappiamo che la sterlina perché nel cambio sterlina dollaro la prima che si muove è la sterlina perché la sterlina e i suoi diciamo gli indici e diciamo gli orari diciamo di contrattazione di di movimentazione di volatilità maggiore li raggiungono nel momento in cui vanno a aprire gli indici inglesi l'indice inglese apre quindi il fuzzicento ufficialmente alle 10 orario italiano quindi dov'è che mi vado ad aspettare io la compressione volatile io la compressione volatile me la trovo più o meno tra le 8 e le 10 del mattino perché quell'indice è chiuso quindi la sterlina solitamente non fa grossi movimenti in quell'orario lì quindi che cosa vuol dire appunto ci andiamo a prendere sterlina yen ci prendiamo il grafico a 15 minuti prendiamo le candele delle 8 del mattino orario italiano che su piattaforma sono a partire dalle 9 perché va con l'orario di Londra quindi dalle 9 alle 11 piattaforma Ticmil e ci tracciamo il massimo e il minimo di quella candela allora frattale abbiamo il nostro fedele collaboratore Giuseppe che ce lo farà vedere ora quindi dalle 9 esatto italiane cioè inglesi scusami inglesi quindi dalle 10 nostre 11 a questo punto esatto dalle 8 italiane alle 10 italiane quindi sarebbe dalle 9 inglesi alle 11 inglesi perché a Londra stanno un'ora avanti quindi è questo e poi ovviamente comunque no il minimo è sempre questo attualmente era questo eh no dalle 8 aspetta non consideriamo quello che è successo prima ok ok allora aspetta facciamo sul giorno precedente perché questo è ancora capirai sul giorno precedente ti piace vi ricer facile c'è il breakout eh sì ieri è stata una bellissima giornata per questo algoritmo molto bella vabbè qui dove entravi entravi comunque in breakout qui lo prendevi tutto no? eh tutto vabbè questo adesso non facciamo venditori commerciali tutto no adesso lo stabiliamo in realtà comunque gran parte questi sono i classici comunque come si dice sono le classiche discese dove qualsiasi training stop riesce comunque a lavorare bene esattamente perché non c'è un respiro profondo a parte poi questa zona qui ma esatto la prima diciamo gamba ha dato il meglio di sé allora facciamolo difficile quindi dalle da qui allora qui sono le 11 quindi sono le 10 italiane però noi dobbiamo prendere quelle di Londra no qui sono le 8 ok quindi da qui perché non si vede non ho la risoluzione non riesco a averlo proprio benissimo ok quindi da qui esatto allora quindi dalle 10 io vedo il minimo è questo esatto il massimo è il massimo dipende da allora io lo vedo dalle dipende da quando faccio training giusto se inizio a lavorare alle 10 devo vedere quindi fino alla candela delle 9 e 45 che orario di Londra sono 10 e 45 quindi quella sopra la precedente è la precedente esatto ok ok ho capito quindi qui ottimo ottimo abbiamo fatto il nostro box perfetto e noi andiamo a dire adesso quindi il nostro box del Don Chan Chan l'abbiamo individuato abbiamo deciso il time frame abbiamo individuato il Don Chan Channel che si è creato su quei due valori ovviamente ogni giorno i valori saranno differenti perché il cambio si muove andiamo a individuare e abbiamo abbiamo detto che andremo long se verrà rotta diciamo la linea alta e andremo short se verrà breccato il minimo quindi la linea bassa come lo andiamo a fare? dobbiamo aggiungere il filtro indicatore il filtro indicatore è dato o dal super trend o dall'alf trend o per chi vuole avere doppia conferma li può mettere entrambi ovvero quando ti dice che half trend e super trend sono verdi e brecca massimi si entra long se invece half trend e super trend sono rossi e brecca minimi si entra short ovviamente se tutte le condizioni non sono verificate si resta flat quindi se ad esempio l'alf trend è verde del super trend è rosso e brecca massimi non entro idem per lo short cioè se uno dei due indicatori non dà filtro identico non mi muovo ovviamente posso anche utilizzare il solo super trend o il solo half trend che comunque nei casi sono due indicatori piuttosto complementari l'unica cosa che l'alf trend ha nel calcolo la deviazione standard mentre il super trend ha nel calcolo l'ATR abbiamo spiegato l'altro giorno che l'ATR rimane un po' più largo rispetto diciamo all'andamento del prezzo specialmente durante le esplosioni volatili mentre la deviazione standard reagisce sempre in ritardo ma con meno ritardo rispetto all'ATR semplicemente perché ha una media ponderata per quanto riguarda quindi aspetta Marco che qualcuno non ha capito il box allora forse aspettate che cerco di migliorare la risoluzione allora dobbiamo tradare il box che si crea alle ore 9 di Londra giusto? quindi ore 10 italiane esatto tra le 8 e le 10 italiane tra le 8 italiane quindi sono le 7 a Londra no sì sei un'ora indietro quando sono le 8 in Italia a Londra sei le 9 no a Londra è un'ora indietro sono le 7 perdonami se noi prendiamo la piattaforma di Ticmill in questo momento attualmente è il server è un'ora avanti rispetto a noi quindi sono le 20 e 15 esatto non è su quello di Londra il server le 20 e 15 quindi sono ah ho capito cosa vorrei dire allora quindi tu vuoi l'orario di Londra dell'apertura di Londra nei mercati della poste di Londra giusto? esatto ok allora quindi se qui quindi è un'ora avanti alle 10 sono le ore 9 italiane in questo caso qui quindi sono le 8 a Londra ok a te serve quindi dalle 8 di Londra alle 10 massimo giusto? esatto ok quindi questa è comunque corretta ok quindi abbiamo individuato questa questa barra questa candela qui quindi c'è il minimo su 15 minuti della candela stessa che chiude giusto? esatto esatto quindi a 146 punto 20 04 dopodiché mi devo trovare un massimo per trovare un massimo devo tenere in considerazione sempre le candele dello stesso orario quindi diciamo le precedenti 3 giusto? esatto esatto e quindi è questo ok il box quindi l'abbiamo tracciato giustamente quindi tutte queste candele qui non ci servono a nulla ci servono solo quelle dell'orario di Londra che a noi serve quindi della presenza esattamente quindi ore e nome italiane 8 Londra che si può ok quindi sai ad esempio non abbiamo fatto un tempo non ci siamo non eravamo a pc e apriamo la piattaforma non lo so arriviamo alle ore 10 italiane quindi sono le ore 9 di Londra dobbiamo andare a prendere dalle 11 giusto? della piattaforma quindi sono le 10 esatto e quindi faccio lo stesso giochino nel senso che chiude la piattaforma chiude la chiude la la candela aspetto che chiuda aggiorno il massimo perché questo è il massimo giusto? il minimo quindi prendo sempre dalle 8 alle 10 hai detto il minimo è questo esatto diventa questo giusto? esatto esatto ok qui faccio il box questo è il box in chat è chiaro il ragionamento Luigi adesso è chiaro? no ok allora provo a rispiegarlo io allora noi dobbiamo prendere in considerazione orario italiano dalle 8 quindi a partire dalle 8 00 osserviamo il cambio sterlina yen fino alle 9 e 59 orario italiano in questo lasso di tempo in questo lasso di tempo si sarà creato un minimo e un massimo dobbiamo prendere il minimo e il massimo assoluto di questo istante di tempo che si è creato alle 10 del mattino tracciamo quindi il box perché alle 9 59 finisce e possiamo quindi travere chiaro il box perché come il minimo si può essere creato alle 8 e mezza e il massimo ad esempio alle 8 e 45 come si può essere fatto il minimo alle 8 e il massimo alle 9 e 59 noi sappiamo che non prendiamo mai posizioni prima delle 10 del mattino questo perché per un discorso di volatilità perché finché i mercati inglesi restano chiusi la sterlina non si può muovere o se si muove si muove perché è successo qualche altra cosa da qualche altra parte noi dobbiamo andare dietro a un discorso di volatilità quindi solitamente quasi sempre si crea un boxetto anzi quello di oggi è piuttosto diciamo ampio perché solitamente si crea anche un po' più piccolino insomma più è piccolo il box e più è invitante il trade per il semplice fatto che essendo uno strumento abituato ad andare in direzionale se c'è un box ampio vuol dire che la direzionalità già l'ha sviluppata in quegli orari lì perché con tutta probabilità è successo qualcosa o in Cina o in Europa Unione Europea intesa perché in quel momento lì hanno già contrattato i mercati cinesi giapponesi e australiani e hanno fatto la prima ora di trading i mercati europei e entra Londra creato questo box comunque Londra la sterlina comincia a vivere di luce propria come si usa dire comincia a muoversi perché si sta muovendo il mercato inglese sviluppa volatilità sua e non di riflesso anche di riflesso degli altri mercati ma principalmente si sta muovendo perché stanno contrattando diciamo le situazioni economiche inglesi quindi io me ne sbatto le scatole fondamentalmente di quello che è successo prima delle otto e mi concentro soltanto su quello che succede tra le otto e le nove e cinquantanove traccio due ore di tempo sono due ore dalle otto alle dieci italiane quindi io adesso ho tracciato seguendo il consiglio di cloud un chat quindi la linea verticale delle nove in piattaforma questa di TIC1000 sono le otto italiane ottime e dalle fino ovviamente alle dieci italiane che quindi sulla piattaforma è un'ora avanti quindi basta semplicemente sapere che la piattaforma è un'ora avanti si deve andare sempre un'ora indietro quindi dalle diciamo che il box è dalle nove alle undici orario TIC1000 ok questo abbiamo visto questo box esatto da lì iniziamo a cercarci la nostra occasione di ingresso quindi che cosa dobbiamo aspettare che il mercato brecchi o il minimo o il massimo se brecca minimi andiamo short se brecca massimi andiamo long nel caso di specie oggi ha breccato il massimo bene entro devo vedere l'indicatore mi trovo il filtro ho il mio super trend che fammi vedere un po' come l'hai tarato Giuseppe che valori gli hai dato eh no di default quindi non non è che ok perfetto il di default va benissimo poi se qualcuno di voi se lo vuole ottimizzare su qualche altro valore perché magari trova qualche valore del super trend che magari è un po' più secondo lui consono va benissimo però già di default va bene così noi alle 10 e 30 che cosa abbiamo che alle 10 scusami il mercato apre all'interno del box fa un minimo e inizia a salire verso la chiusura della candela sta ha breccato il massimo bene già alle 10 noi entriamo long no non spostarlo il massimo perché noi entriamo sulla ecco sul breakout ah sul breakout non aspettiamo la chiusura quindi risponde no assolutamente no siamo freschi se aspettiamo la chiusura perché il problema è questo che se noi aspettiamo la chiusura ti può fare tranquillamente un candelone di breakout direzionale e magari la chiusura della fa 40 pips sopra e dopo 40 pips il trade è bello che è giocato ormai siamo entrati tardi quindi noi aspettiamo il breakout del minimo lo filtriamo con il nostro indicatore super trend di che colore è il nostro indicatore super trend verde bene vuol dire che si sta sviluppando una tendenza a rialzo entriamo posso fare un'obiezione però certo in questo caso in questo caso perché se tu mi hai detto che io non aspetto la chiusura adesso questo poi magari è un caso particolare però il super trend mi dà il verde solo a chiusura di barra giusto esatto io qui lo vedo rosso quindi non dovrei entrare a questo punto se puoi entrare giusto è giusto puoi entrare tranquillamente alla candela successiva che è questa esatto nel momento in cui apri sta aprendo a ridosso diciamo della linea orizzontale apre poco sotto nel momento in cui la brecca io posso entrare che comunque dei casi tu in quel momento lì che brecca al massimo il super trend sta facendo il giochetto verde rosso verde rosso verde rosso nel momento è chiuso ha chiuso ancora rosso nella candela successiva però che apre va su appena chiude quella candela tu già la vedevi già lo anzi o meglio già appena breccava lo vedevi verde poi a chiusura era verde sicuramente quindi nel breakout c'avevi il super trend verde avevi il breakout quindi entravi tranquillamente quindi in quel caso lì saresti entrato sul breakout del massimo con conferma del super trend anche dopo una candela non è assolutamente un problema e quindi abbiamo creato il nostro ingresso il nostro ingresso è valido fino a massimo le 16 del pomeriggio ok? ok sennò poi lo chiudi giusto? no se c'è un pendente se lavora ancora dentro ovviamente se io c'ho il super trend verde c'ho praticamente il prezzo che sta sotto i massimi nel momento in cui brecca massimi io in quel momento posso già mettere un pendente long a breakout diciamo di quel massimo ma se quel cambio magari sto box è molto ampio e continua a lavorare all'interno del box e il breakout lo fa alle 4 e mezza del pomeriggio io non lo prendo in considerazione quel trade perché alle 4 e mezza del pomeriggio è finita tutta quanto il discorso della volatilità si sviluppa solo la volatilità americana che col cambio stellina yen tutto c'entra tranne che diciamo l'America quindi lì in generale quindi quando dicevi di non aspettare cioè la chiusura ti riferivi al fatto di non entrare al mercato ma di piazzare comunque il pendente o il buy stop o il sell stop esatto esatto perché magari già vedevo il super trend che era verde è ovvio che se vedo che il prezzo sta per breccare massimo il super trend è rosso è inutile che metto il buy stop perché non si entra in quel caso lì e nemmeno metto il sell stop perché il prezzo è lontano dai minimi cioè non c'ha senso in quel caso lì e io il buy stop lo vado a piazzare nel momento in cui vedo che il prezzo sta avvicinandosi verso la linea di resistenza e magari il super trend è già verde allora in quel caso sì ha senso mettere il buy stop altrimenti c'ha senso mettere solo il buy stop perché se già c'ha altri il super trend verde e il prezzo è vicino ai minimi è inutile che metto il sell stop che il super trend è verde che non devo andare short quindi ovviamente questo è un'ottimizzazione di lavoro discrezionale cioè quello io non ci lavoro mai con i pendenti però a chi piace insomma lavorare con i pendenti sicuramente aiutano quello sicuro perché magari proprio in quel momento lasciatemi il termine vi scappa di andare in bagno quantomeno avete l'operazione pronta questo è un esempio quindi abbiamo fondamentalmente creato il nostro ingresso adesso dobbiamo andare a creare l'uscita abbiamo già detto che l'ingresso dura fino massimo alle 16 l'uscita sono alle 17 ricordate quindi sempre un'ora avanti esatto mentre l'uscita l'ho impostata fino a massimo alle 20 che ovviamente sulla piattaforma sono le 21 cioè dove sta sta entro le 20 italiane io chiudo l'operazione in più aggiungiamo stop loss e target perché perché dobbiamo aggiungere stop loss e target per un semplice motivo perché se noi lasciamo fluttuare troppo l'operazione metti caso che comunque siamo in una giornata di dati come il non far payrolls e stiamo dalla parte sbagliata perché ci può stare tranquillamente che magari stiamo dalla parte sbagliata e noi ci becchiamo tutta l'oscillazione negativa e in quel caso vanno a farsi benedire tutti quei bei discorsi che abbiamo fatto sul money management quindi dobbiamo sicuramente metterci uno stop loss e un take profit per il semplice fatto che il livello quantitativo ottimizza un pochettino quelle che sono le metriche dell'algoritmo quindi come lo impostiamo lo stop loss e il target allora lo stop loss per chi è graficista ma non lo consiglio mai di metterlo sotto al minimo diciamo del box questo diciamo è quello che viene da dire in linea generale per chi invece vuole lavorare in maniera più quantitativa direi di mettere uno stop loss con un ATR impostato a due periodi quindi aspetta un attimo Marco hai detto alle 21 devo devo comunque annullare la posizione esatto chiudere diciamo sostanzialmente se non è stata chiusa in profitto o il losso esatto se non ha preso stop loss o target noi entro le 20 scusami abbele 21 sarebbe l'orario tick esatto quindi le 21 ore 20 perfetto esattamente Giuseppe poi andiamo a impostare stop loss e target stop loss e target noi li possiamo tranquillamente filtrare con il discorso dell'ATR se vogliamo essere graficisti mettiamo lo stop loss sul minimo diciamo del box se non vogliamo essere graficisti invece vi dico togliamo la deviazione standard che non ci serve che magari abbiamo pure un po' più di spazio l'ATR lo impostiamo a due periodi sì e l'ATR due periodi allora guarda se tu vai su visualizza menu visualizza finestra dati eccolo là bravissimo ormai con Giuseppe ci capiamo al volo allora se noi ci andiamo a posizionare sulla candela che ha chiuso praticamente alle 10 con il mouse ci dice che l'ATR era 20 pips ok correggimi se sbaglio che è 19.8 lo possiamo arrotondare a 20 giusto Giuseppe esatto sì ovviamente l'ATR tiene conto del del massimo e minimo esatto e noi ci andiamo a prendere 20 pips di stop e 20 pips di target a un 1 a 1 così in un 2 e crudo ok bravissimo quindi aspetta che vediamo come posso farlo per quindi allora facciamo finta io entro qui facciamo finta oggi siamo entrati qui siamo entrati qui ok quindi 20 pips annaggia questo mouse allora quindi 20 pips da qui ve la faccio verde così si capisce che è un gain e mettiamo per rispetto anche lo stop loss che più o meno l'acqua rosso però si confonde con le altre mettiamo lo mettiamo blu dai acqua ok 20 qui 23 ah perdonate non ho una risoluzione buonissima però siamo qui questo ok adesso tic meno o tic più comunque sono 20 ok quindi qui e qui per un rischio con l'atr quindi stop loss e con l'atr perché l'atr perché l'atr ci stima come giustamente ho osservato prima giuseppe ti dice la media delle ultime due candele dal momento che comunque dei casi io pongo solo una ottimizzazione che adesso completiamo e pongo solo semplicemente questo discorso perché dobbiamo dirlo a due periodi l'atr perché fondamentalmente a noi ci interessa sapere non quello che farà il mercato tra due ore tre ore cinque ore o domani a noi ci interessa nell'immediato quindi noi ovviamente nell'immediato potremmo anche subire un'accelerazione ma non è detto che l'accelerazione che subisce il mercato ci sia sempre a favore quindi dobbiamo sempre toglierci dalla testa che ci abbiamo sempre ragione il fatto che ci abbiamo tanti filtri che ci dicono ok entra è sicuramente una manforte una statistica a favore ma non è mai il cento per cento quindi dobbiamo sempre anche ragionare in ottica negativa che l'operazione ci potrebbe andare contro quindi dobbiamo tenere in mente a il money management quindi ecco perché non lavoriamo a la data di Williams orari quindi senza stop loss e target ma seguendo gli orari perché altrimenti sul forex ci prendiamo sonore e batoste e quindi andiamo a introdurre questi parametri appunto misurati quantitativi per il semplice fatto che limitiamo i danni quando il discorso ci va contro e invece ci andiamo a prendere quello che ci spetta perché non possiamo mai avere la pretesa io dico sempre la tecnica che entra sui minimi esce sui massimi è un po' difficile da ottenere può capitare qualche volta ma è più fortuna che altro quindi ci andiamo a contentare di quello che il nostro parametro quantitativo ci dà l'ok l'unica ottimizzazione di money management che vado a fare è il rischio rendimento che lo rapporto 1 a 1,25 se vogliamo essere più arrotondati a 1,3 quindi se ho rischiato 20 pips io praticamente me ne vado a prendere 25 quindi alziamo leggermente il nostro take profit di questi 5 pips perché il rapporto di rischio rendimento me lo porto favorevole perché A è uno strumento trend following quindi uno strumento trend following che io praticamente ho ho molte probabilità che comunque dei casi mi vada direzionale e andandomi direzionale e andandomi a prendere l'uno a uno non ho problemi a usare un pochettino di più che quel di più a me serve semplicemente per ottimizzare i costi transazionali quindi lo slippage se lo subisco e con TIC devo dire la verità ne ho subiti veramente pochi 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 giusto qualche volta durante qualche news in generale dico nella notte non ci ho mai lavorato perché comunque dei casi non sono orari liquidi quindi comunque lì ci potrebbe essere un allargamento leggero di spread come è normale che sia insomma quindi in linea generale evito questi orari di contrattazione dove c'è massima liquidità quindi non ho problemi a trovare controparti visto che sono in un broker ECN NDD e quindi vado a trovarmi anche quindi gli orari migliori dove c'è massima volatilità dove c'è massima liquidità dove non ho problemi ad essere eseguito nel punto in cui decido di essere eseguito poi è chiaro che durante le news di quegli orari lì un leggero slippage si potrebbe subire ma è talmente poco perché il broker ci sono talmente tanti server talmente tanta roba su TICMIL che comunque dei casi è difficile che riusciamo a prenderci degli slippage pesanti allora il discorso è questo sul allora se è a rilosso delle news delle 10 e 30 che di solito ci sono sulla sterlina beh lì tenendo conto che non c'è prima della notizia la liquidità sui mercati cioè quindi i liquidity provider che cosa fanno quando c'è una notizia in calendario quindi ad esempio quelle delle 10 e 30 che comunque tutti gli operatori ne sono a conoscenza e di quelli di provider ovviamente non fanno da controparte quindi non si mettono a darti il prezzo lo fanno subito dopo il rilascio della notizia quindi se avete dei pendenti in quella situazione lì potete subire anche io lo dico in maniera molto onesta e trasparente dei forti slippage infatti io comunque sono contro questo tipo di training sulle news non mi piacciono particolarmente proprio perché si fanno comunque vedere delle cose che poi in realtà non sono vere perché se mi piazzate un pendente prima della notizia delle 10 e 30 o prima che ne so dei non far payrolls vi potete peccare degli slippage non sto esagerando anche di 30-40 pips non perché è TIC 1000 ma con tutti i broker c'è questa possibilità quindi fate molta attenzione ve lo dico in maniera molto onesta il discorso invece è diverso è diverso se come ad esempio ho fatto vedere Marco fate già l'entrata a mercato o in quel caso comunque l'esecuzione l'avete già in macchina e quindi il nemico in questo caso è l'allargamento dello spread io l'allargamento degli spread comunque lo monitorò costantemente addirittura sulla notizia più importante che sono dei non far payrolls e poi lo facciamo vedere anche in live quando appunto c'è la notizia dei non far payrolls sono sono comunque bassi e anche sulla sulla stellina non sono così eccessivi però se mi piazza dipendente qualche problema potreste averlo di slippage quindi fate sempre molta attenzione e controllate che non ci siano delle notizie a forte impatto prima di entrare con i pendenti questo poi il discorso scusa Marco se mi sono dilungato ma è generico un po' su tutte le strategie che utilizzano questi pendenti soprattutto sulle news no ma anzi perché comunque dei casi quello che a mio avviso è giusto che diciamo perché qui non vi stanno parlando due persone che devono vendere qualcosa ma si vi stanno parlando due traders che comunque in quei casi fanno trading tutti i giorni e vi stanno raccontando quello che effettivamente succede tutti i giorni io adesso non voglio fare nomi ma il motivo per cui io sono passato su Tickmill non è perché Giuseppe è bello perché mi fa fare il trading talent show o altre cose cioè io sono entrato su Tickmill semplicemente perché è veramente uno dei migliori broker se non il miglior broker per quanto riguarda a questi aspetti ero con altri broker anche più blasonati di Tickmill ma vi dicevo che sul DAX la mattina alle 9 mi partivano 8 punti di slippage arrivavo sul Forex appunto sulle notizie che diceva Giuseppe slippage di 15-20 pips in quel caso lì sinceramente mi comincio a rodere perché non c'è un discorso di io mi faccio tutti i conti precisi di fare dei rischi rendimento di 1-1-3 in quel caso lì se mi slippi la posizione di 40 pips 20 pips io magari sto lavorando appunto su 20 pips ma hai completamente annullato l'operazione cioè hai mai distrutto l'algoritmo quindi è inutile che io mi vado a fare che vado a rischiare 20 pips per andarmene a prendere 3 me ne sono rimasti 5 cioè non mi conviene a quel punto non faccio più l'operazione e comunque dei casi questo cominciava a succedere spesso quando succede questo vuol dire che comunque dei casi non state lavorando con un ECN ma state lavorando con un pure market maker quello ve lo dico per esperienza oppure con un broker che non ha grossi liquidity provider quindi in quel caso poi optate per cambiare broker allora quindi abbiamo stabilito un po' tutte le regole giusto il rischio di entrare in questo caso esatto esatto l'ultima regola che dobbiamo mettere è ovviamente il money management a rischio percentuale abbiamo detto che io solitamente mi azzardo utilizzare l'1% ma capisco che comunque dei casi è un rischio piuttosto elevato che non tutti si possono permettere anche a livello psicologico perché io sono una persona che ha tanta avversione al rischio e non ho diciamo problemi a sopportare i drawdown e le perdite anche un po' più accentuate capisco che ci sono persone che giustamente non hanno questo tipo di caratteristica caratteriale che purtroppo molti dicono che la psicologia non interviene sul trading io vi dico che la psicologia non interviene sul trading sì è vero perché delle volte basta anche delegare a un algoritmo ben strutturato fa tutto lui e ce ne andiamo al mare in teoria non è mai così assolutamente non voglio far passare questo messaggio ma paradossalmente si potrebbe fare tu dici c'ho paura che il mercato mi va contro e tutto delego tutto a un computer e risolvo questo problema ti dico manco per niente perché tanto poi torni dal mare e comunque la piattaforma la controlli che abbiamo fatto oggi abbiamo guadagnato abbiamo perso quando cominci a perdere ta-tan 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 al giorno dopo che vai a mare non stai tranquillo non te la godi la giornata perché comunque dei casi sai che comunque c'è il tuo strumento che sta lavorando ultimamente sta lavorando male quindi sei tentato di guardare di intervenire con l'algoritmo o quantomeno di derogare un pochettino perché proprio stai perdendo ecco se non avete questo per limitare diciamo questo periodo di perdita che ce l'abbiamo tutti quello scordate quello che non esistono perché ce l'abbiamo tutti per limitare questo fattore psicologico bisogna lavorare con i capitali innanzitutto che a ci possiamo permettere di perdere e b la perdita deve essere ridotta ai minimi termini quindi se per me rischiare se l'1% a posizione con il rischio che mi vanno contro 20 posizioni e perdo il 20% del capitale e non faccio riferimenti alla quantità del capitale come possono essere 1000 euro come 100.000 se io questo 20% mi pesa troppo vuol dire che non devo rischiare più l'1% ma devo dimezzarlo cioè andare a mezzo punto percentuale di rischio il nostro rischio deve essere basato al nostro cervello se il nostro cervello riesce ad accettare una perdita del 0,50% del conto bene altrimenti riduco ancora se invece sono a cuor leggero che magari so mi fido di quello che ho studiato mi fido di quello che ho implementato sono sicuro di me stesso sono ho fiducia nel mio lavoro e soprattutto non ho problemi psicologici dal punto di vista dei drawdown tranquillamente posso diciamo portarmi a regime come uso dire non sovraespormi cioè che io vado a rischiare il 2 il 3% cioè da pazzi veramente cominciamo a a a entrare diciamo nell'ottica del casino io dico che l'1% è la miglior cosa in linea generale da un altro punto di vista vi dico che bisogna gestirselo bene anche con i back test ovviamente perché dopo bisogna un attimino andarsi a ottimizzare con il back test qual è ben o male il monomanagement migliore io per questa tecnica vi consiglio per i più deboli di cuore lo 0,50% per chi ha invece un po' più di familiarità e tutto anche l'1% del conto è un rischio abbastanza sostenibile quindi che cosa vuol dire che il mio stop loss in questo caso erano 20 pips questi 20 pips devono essere massimo o l'1% abbiamo detto o lo 0,50% del conto quindi ognuno di voi si va a fare i suoi calcoli con la calcolatrice nel caso in cui non è non ha dimestichezza insomma con i pips io ben o male ormai li sono a memoria insomma in generale quindi non ho problemi a farmi due calcoli al volo poi ovviamente io ho questa tecnica che a mezzo è automatizzata cioè la gran parte è automatizzata quindi faccio veramente poco a livello diciamo di integrazione per quanto riguarda l'operatività detto questo scusa se ti interrompo su questo conto qui da 5.000 colo 0,50% di rischio sono 25 euro più o meno per trade in buona sostanza possiamo fare per bruciare questo conto dovremmo prendere un rischio rovina di 200 trade di fila per bruciare questo conto quindi abbiamo con lo 0,50% si ha tutto il tempo di fare pratica con questo tipo di strategia ok allora Marco guarda se per te va bene torniamo un attimo sulle slide perché avevo postato adesso perché abbiamo voluto fare una cosa diciamo di qualità e abbiamo cercato insomma delle come si dice delle occasioni ma se tu vedi ci sono degli esempi che io avevo messo allora vedete qua c'è il nostro il nostro box anzi mi scuso che non ho messo le linee verticali però prendetemelo per buono insomma abbiamo il massimo dove fondamentalmente si è creato tra le 8 diciamo del mattino e le 10 del mattino orario italiano e si è si è creato anche il minimo avevamo super trend half trend entrambi negativi sono stati breccati minimi il mercato ha respirato un pochettino mi sono andato a calcolare l'ATR sulla candela e mi dava circa 21 pips l'ho portati a target che profit poco più giù insomma dei 20 pips insomma non ho preso qualcosa in più e in quel caso lì vedete che sono andato quasi sul minimo del movimento di questo ovviamente di questo breve perché poi il mercato ha ritracciato e dopo di che è sceso questo era per lo short poi abbiamo un esempio anche per il long noi abbiamo il box anche qui piuttosto ampio qua vi dico che quella giornata lì che tra l'altro era della settimana scorsa questa stavo un po' spaventato da quel punto di vista perché il box come potete vedere è piuttosto ampio ed ero tentato di non fare questa operazione me l'ha pagata uguale e dandomi i miei 27 pips come potete vedere ve l'ho anche tracciati con la come si dice con la diagonale e entrambi gli indicatori erano verdi e qua siamo entrati un po' in ritardo però comunque ci ha pagato il nostro il nostro take profit insomma ovviamente io lo stop loss qua ve l'ho indicato per quanto riguarda il minimo ovviamente per chi vuole utilizzare l'atr tranquillamente poteva essere dopo alzato in linea generale attenzione questo non vi toglie che su questa tecnica se ad esempio magari avete raggiunto il 50% del guadagno del trade magari nulla vi toglie di cominciare a alzare lo stop quindi di utilizzare un trailing stop in negativo cioè man mano che si guadagna alzare lo stop a mano si può cominciare a fare sono delle tecniche di ottimizzazione che vi consiglio di andare a studiare a vedere anche a livello di programmazione sono a livello programmazione però dico un po' più complesso ma si può fare almeno io ci sono riuscito bene o male a stabilire delle regole dove ogni talvolta ad esempio io spesso utilizzo anche su questo algoritmo che ogni volta che il 75% del target è stato preso cerco di spostare lo stop loss o quanto meno per quanto riguarda il valore dell'atr se stavo sul minimo diciamo del box oppure addirittura di portare lo stop loss a pareggio quindi in break even dove sono entrato in modo tale che se mi torna indietro del 75% di quel guadagno che mi aveva diciamo che avevo ottenuto in quel momento seppur in potenza perché ancora l'operazione non era chiusa se mi torna indietro non perdo nulla su quell'operazione anche perché vi dico che se per il 75% vi torna indietro con tutta probabilità non ci arriva al 100% del target quindi solitamente sono delle piccole ottimizzazioni che si possono andare a fare ovviamente io vi ho dato uno schema base di una tecnica che comunque nei casi funziona già in quel modo lì ovviamente ognuno dopo si può andare a ottimizzarla e ciò non toglie di poterla utilizzare anche su altri mercati come l'eurodollaro come il cable che comunque si prestano molto delle dinamiche di transfollowing in particolar modo anche l'eurodollaro in questi ultimi due anni ha comunque con questo run up che sta avendo è sicuramente importante questo per farvi capire in linea generale quando vi parlavo prima insomma delle tecniche per quanto riguarda bene o male l'atteggiamento dei tori in un ambiente entropico perché vi faccio questo esempio se voi prendete l'universo un buco nero è un ambiente entropico che vuol dire molto confusionario molto incasinato dove non ci sono delle regole apparentemente non ci sono delle regole ben definite e quindi non sappiamo come si comporta quel determinato ambiente quindi si vengono a creare quelle che vengono chiamate random walk serious che cosa sono sono delle serie storiche prese a casaccio cioè se volete approfondire un po' l'argomento vi consiglio di seguirvi i webinar del nostro amico e collega Sergei Magala che ne ha tanti diciamo di esempi sulla random walk sulle serie prese a casaccio lui vi dimostra come indicatori lineari non funzionano io vi dimostro invece come in quel caso lì l'entropia non ha una regola ben definita però cominciamo a dargliela una regola tu stabilisci una regola da quella serie storica e vedete che comunque dei casi un bias parte il forex altri strumenti ce l'hanno comunque dei casi hanno praticamente degli atteggiamenti ripetitivi il forex l'abbiamo detto più volte ce li ha anche lui ma non li ha ripetitivi per lungo tempo ce l'ha per un ciclo di borsa che va dai 2 ai 4 anni dopodiché il bias si annulla quanto meno se ne genera un altro perché l'ambiente l'entropia del forex è ancora più incasinata ecco se vogliamo fare un paragone il forex in generale è il buco nero della finanza perché comunque dei casi è tutto si muove sembra con abbastanza casualità ma non perché siano casuali i movimenti ma perché non hanno una linearità nel tempo se no altrimenti giustamente ci sarebbero algoritmi sul forex che iniziavano a guadagnare da quando sono nate le monete fino ad oggi in realtà non è così perché l'ambiente cambia mettendoci appunto una figura ad esempio l'andamento di un animale dentro ad esempio facciamo un esempio strano prendiamo un animale domestico abituato ma oggi mi piacciono questi esempi sui buchi neri eh lo so lo so comunque ecco vi faccio un esempio molto semplice e poi chiudiamo prendiamo un animale domestico che lavora dentro la sua stanza e guardiamone i suoi movimenti poi prendiamo lo stesso animale domestico e lo andiamo a infiliare dentro in un ambiente che lui non conosce quindi entropia pura vedrete che lui riesce più o meno a replicare gli stessi andamenti che praticamente faceva nella stanza che lui conosceva ci sono delle similitudini in questo quindi questo è l'accoppiamento del bias in relazione a quella che è la random walk andando a unire questo e andando a studiare la predittività dei mercati ovvero durante le news dove l'ambiente entropico è massimo quindi non si sa dove va il mercato noi siamo quell'animaletto che praticamente si deve riadattare se noi sappiamo studiare quale sono queste regole e stanno nella fisica e stanno nella diciamo per quanto riguarda fondamentalmente quella che è la genetica e riusciamo ad applicarle ai mercati finanziari abbiamo fatto bingo vi dico e chiudo Gann non era uno scemo che andava a studiare l'andamento delle stelle dice che molti dicono ma che c'entrano le stelle col trading nulla se voi le applicate fondamentalmente con Fibonacci e tutti quei grafici che sembrano un Giotto o un Picasso non c'entra assolutamente niente se invece voi applicate gli stessi principi studiati a livello scientifico perché quella è scienza applicate delle serie storiche comincia ad avere un senso questo ben o male è il messaggio che vi voglio mandare ed è il messaggio per cui vi dico ecco perché utilizzo misuro con l'ATR e non misuro con Fibonacci ecco perché vi dico entro con un box di Don Chan Channel e non entro magari con che ne so la trend line o con il cambio colore del super trend perché ci sono un po' di domande scusa se ti interrogo ma ci sono un po' di domande sulla tecnica quindi io adesso ho ricostruito un'altra situazione del giorno precedente allora così poi chiudiamo eventualmente con le domande perché mi hanno richiesto di rifare il box allora dalle 9 alle 11 della piattaforma di Ticme perché sono dalle 8 alle 10 ok quindi in questo arco di tempo non bisogna trarare quindi cercare operazioni con questa strategia si crea il box quindi che ho messo con le linee qui azzurre quindi sul massimo è il minimo della candela delle 11 quindi che sono le 10 italiane ok quindi dopo che si è creato questo box io posso entrare qui in questa zona per molti non è chiara l'entrata perché io aspetto la chiusura del box alle 11 no più dalle 10 e 59 giusto esatto chiude alle 10 e 59 alle 11 o poi all'inizio di questa candela io qui devo entrare o devo aspettare il minimo o è mia discrezione no allora il minimo si è già creato entro le 9 e 59 io alle 10 ho l'autorizzazione di indiammi a cercare le occasioni se alle già le 10 e 01 ha bucato il minimo io già là entro se il super trend ovviamente è negativo e mi ha bucato il minimo ok in questo caso che il minimo non l'ha andato a rompere subito no mi sto fermo quindi entro qui magari con un pendente esatto ovviamente gli dico sempre non mettete mai pendenti o gli ingressi precisi sul sul tic insomma se fate mezzo pips più giù insomma non succede nulla insomma ecco ok spero che sia chiara questa questa allora Salvatore chiede Salvatore ha una ventina di domande no sono un po' troppe Salvatore chiede se si deve entrare una sola volta o nell'aggiornato oppure si si può entrare più volte no no una volta soltanto l'ho detto prima il mercato non regala mai pasti gratuiti quindi un trade massimo al giorno ma l'abbiamo visto prima dall'equity line vi dico che uno massimo due trade a settimana ci saranno ok per Luigi la candela della chiusura del box è quella delle 11 che sono le 10 italiane quindi esatto devi prendere il minimo della candela delle non è detto che sia lo stesso minimo perché ovviamente puoi avere puoi avere un minimo precedente che è inferiore a quella vediamo se trovo l'esempio allora poi comunque tenete conto questo che non so quanti di voi siano iscritti alla alla chat telegram di working forex gruppo io questa strategia come comunque avevo già detto proverò a seguirla anch'io nei limiti del possibile e infatti abbiamo anche messo poi per chi chiedeva se fosse possibile visionare un myfxbook io ho già creato il myfxbook del training talent show coaching in modo tale che noi possiamo avere una statistica visto che adesso il prossimo webinar Marco lo faremo tra un mesetto in questo mese sia io che Marco ovviamente nei limiti del possibile cercheremo di fare dell'operazione siccome comunque la strategia non è così impegnativa perché bisogna solo tracciarsi un canale e stare lì per piazzare poi il pendente non è complicatissima quindi io cercherò di seguirla e poi vedremo tra un mese che tipo di statistiche o di errori ho fatto su questa strategia poi è una cosa che ho consigliato anche voi di farmi un myfxbook proprio per avere poi delle statistiche più oggettive possibili vediamo se riesco a rispondere alla domanda di Luigi allora le 11 ah ok perfetto così vediamo anche in questo caso dove non ha funzionato esatto gli stop ci sono ragazzi beh non ha funzionato non lo so perché se fosse entrato qui bisogna vedere la TR era di 16 pips quindi e qui queste sono le classiche situazioni dove magari se siete entrati con un certo ritardo magari 16 pips non l'ha fatti però la precisione anche qui della TR ha fatto proprio 17 questi sono i classici casi questo non è un caso comunque cioè è un caso limite per carità però come potete vedere una TR a due periodi c'ha un senso non è che me lo sono inventato la notte il discorso è che comunque dei casi torno a ripetere a me non frega nulla dove va il mercato domani o tra 5 ore a me mi interessa il mercato quello che fa nell'immediato perché prima chiudo la pratica e più sono contento io a me non mi interessa stare al mercato le giornate le settimane anche perché più state nel forex più c'è un discorso commissionare da pagare ci sono gli swap c'è tutto un discorso quindi io chiudo l'operazione intraday ma non mi interessa mandarla tutta la giornata addirittura ci sono quelle giornate che il mercato fa certe sparate impressionanti ma a me di prenderle tutte non me ne frega nulla perché il mercato apre tutti i giorni quindi che io di quella sparata mi prendo solo un pezzo per carità magari là per là come diciamo a Roma rosico un pochettino perché dici cavolo oggi era una tavola apparecchiata mi sono mangiato solo l'antipasto per carità può succedere questo discorso e magari ci può anche stare però dico sempre vi poteva andare pure contro quindi a mio avviso questi discorsi non ci hanno senso proprio in generale bisogna andarsi a prendere quello che il mercato e gli strumenti che in questo caso abbiamo perché come ha detto non ci abbiamo le reti neurali ma ci abbiamo questo di strumento che bene o male è anche piuttosto avanzato rispetto comunque dei casi a tante altre situazioni lo guardiamo in ottica quantitativa e non di analisi tecnica quindi in ottica oggettiva misurata e vedete che comunque dei casi quello vi dice e quello fa c'è proprio da fare poi io aspetto Marco che devo rispondere a un paio di domande sul massimo non è quella di chiusura della candela delle 11 quindi delle 10 ma ovviamente se c'è un massimo superiore come in questo caso si prende il massimo superiore a quella a quella candela quindi questa esatto correggimi sempre se sbaglio allora è il minimo assoluto e il massimo assoluto anche quindi perfetto per l'intervallo di tempo esatto ok ok perfetto allora sì ci sono un po' di altre domande ma riusciamo a risponderle perché abbiamo guarda Giuseppe per me oggi sono comodo a casa quindi se vogliamo approfittare non è proprio il massimo allora vediamo un po' se c'è qualche esatto comunque ripeto questo tipo di strategia già da domani cercherò di seguirla nei limiti del possibile e poi ci rivediamo tra un mese e vediamo un po' come è andata poi per chi volesse appunto seguirevi magari ve lo scrivo in chat il link del gruppo telegram dove Marco ci sei anche tu certo vi ho mandato anche il link per aprire il conto per chi vuole ok l'hai mandato nella chat giusto ok vi ho mandato la chat di telegram nel caso voleste unirvi e seguire poi questa strategia ce ne sono anche altre in realtà che seguo però riusciamo comunque a vederlo un po' tutte ok Marco io direi che abbiamo un po' risposto a un po' tutte le altre domande per poi per qualsiasi altra cosa appunto c'è la chat oppure i contatti di Marco che vi faccio rivedere qui Marco questa è l'email il suo contatto Skype addirittura il suo numero di telefono privato quindi Whatsapp telegram e poi questo link che è difficile da memorizzare per aprire il conto comunque lo ha già inviato in chat grazie a tutti allora per aver seguito questo webinar e vi auguro una buona serata e come sempre buon trading anche a tutti buona serata grazie 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 a tutti